Buon Giovi a voi piace un sacco di buon Giovi Il rock un po' più peso Ma sai tutti questi qui Io non mi sono mai aggiornato Tipo Bon Giovi Non so che cazzo abbia fatto di recente David Bowie Ma chiaro se uno si scarica con questi di Bon Giovi Cosa scarica? It's my live, always No ma anche Appoggiatelo all'ora E ho le cuffie Ma siamo in live Ciao ciao Scusate stavamo parlando di cazzi nostri Se potete attendere un attimo Sì sì stai per cortesia Stiamo risumando delle vecchie Masterpiece Delle vecchie merda stavamo di musica Stavamo dicendo Era un discorso interessante è nato Io gli parlavo di Bon Giovi Si scarica qualche canzone di Bon Giovi Tipo tu si scarichi delle canzone di Bon Giovi Cosa ti scarichi? It's my life, always Ragazzi sono il unico che si scolta banale Che male Che male Era una chitarra senza treccorri Ah dai che palle Era un buon Subscriber Un anno di noi Quanto amore Ti dobbiamo Ma comunque per i Bon Giovi O anche altri Bon Giovi Tipo io mi ascolto Cosa? Arrivederla grazie Bon Giovi Proprio simpatico No mi ascolto tipo delle canzone È difficile che un gruppo mi piaccia Tutta la musica Che fa tantissimo A me sempre Di solito Il 90% delle volte Io mi scarico l'intero album Quando mi piace una canzone Scarico l'album di quella canzone lì E di solito mi piace tutto No mi piace tutto Carino Sai cos'è stato un album Che mi è piaciuto tutto proprio? Meteora Hybrid Theory E grazie Tutti i video Hanno fatto delle canzoni Tutti singoli Ma per quello Tu hai mai visto un altro album così? Beh sì Però A livello di hit No Perché erano tutti singoli Michael Jackson Erano fantasmi Era a quei livelli lì Che quasi Hai visto che paragone hai dovuto fare Porca madre È appunto sì Michael Jackson È diventato un buono saluto Bon Giovi Va bene Bon Giovi Michael Jackson Un sacco di canzoni mi sono piaciute Non tutte tutte Ma veramente Penso sia Il mio artista preferito di sempre Ma neanche a me piacciono tutti E per me Non è normale Invece C'era più lungo È bene Magic Streets Simulator Ma dai Cambierà mai il nome Il signor Magic Streets Povero Da gatto l'ho chiamato Ernesto Qui lo chiamo Rotitino Non muore la signorina Come scusami Era che anche ha fatto nove mesi Manu non muore Ma te sei un coglione Scusa Ma staglia Ma hai tolto tutto Mi tolto Ma ho sentito morire qualcuno Ma stiamo giocando Ma è una macca Manu mi ha sparato fortissimo Sto entrando ancora Perché avrei dovuto uccidere Robin Io sono entrato Ero morta Tra l'altro non hai visto Eh sì Sapere che non l'avevi visto Lo smettevo Testa di merda Io non l'avevo visto niente Non lo sapete Tu l'ho ucciso Robin Davanti alla faccia Che figura d'arstolzo Margo Ma tu hai fatto la figura Ma tu che non ti accorgi niente Ma io sto facendo infatti niente Cosa vuoi? Senti che è Ico che fa in questo posto Ma non sei tu un traditore? Qualcuno ha sparato Allora ti detective ball Ok da Invece Dove sei? E dai Link al canale Guazzar non andare Guarda quanto sei Il canale delle live Dimmi Sei un po' stelt Eh certo Arrivò il tuo beta Quanto sei? Quanto sei? Ma qui c'è il commesso Che mi dà fastidio Hai fatto qualcosa di particolare Qui da dove sei uscito Ho ucciso Marco Bravissimo L'ho ucciso io? Che cazzo dici? Non è vero? È un obbucin Mente ha mentito gatto Gatto Siamo tutti qua Gatto ha lanciato qualcosa a qualcuno Cazzi vostri Lo sapevo Lo sapevo Astardi Non mi avrete mai mai Era Moro? Sì Deficienti Eccolo qui Aiuto mi sono girato con la porta Eccolo qua Ahia che botta Mi raccomando Iscrivetevi Commentate Condividete La porta ha coperto il barile Polliciate Ah giusto Non da me che li ho disattivati Ero da menzogna anche qui I Gen Boy mi hanno sempre fatto cagare il cazzo A me no Anche a me Sì Anche a me I Gen Boy una volta mi piacevano Esatto Una volta mi ha colorato il boy Ma credo che quel genere di musica che a me non piace Però in genere Ti ho sentito Marco stai fermo Marco stai fermo Vai Non so dove sei però È davanti a te Non devi saperlo Io vedo tutto e sono tagliato solo a me Banane 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 C'era corvo e basta Mi metto in ginocchio Robi Non c'era nessuno Lo sai che io ti voglio bene vero Ma non è arrivata da qua Perché io ero qua dietro Boh era qua in merito Mi sono girato per andare nei bagno Ma io in realtà non l'ho vista arrivare L'ho sentita E basta Non l'ho vista arrivare Cosa Ho sentito qualcosa accaduto Come quando tu hai ucciso in un cadavere Che gli cadono le cose di dosso Aspetta Ma parliamoci un po' però Aspetta che qua c'è il bar Occhio Stavo attivata Stavo carino Via zio dietro Corvo Cosa Di tu Eh sì sto scappando Siamo tutti qua È uno di voi tre È uno di voi tre No è la cichibe Hanno ucciso una persona Ho sentito sparare Ah è la cichibe La cichibe non era qua La cichibe non era qua Porca puttana È uscita da là Mark È me innocente Non era Karim che gli ha sparato Perché era rivolto Tutto di me No 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 Corvo è morto Corvo è morto Scusa cichibe È là dentro È là dentro È là dentro Ma pensavo fossi tu Andiamo a sparare Ai not Ahia che dolore Che dolore Ah non sei tu Manu Io non sento esplodere Ma si cazzo di nuovo Vaffanculo Moro Ma cosa ci ha fatto esplodere però Ma è Manu Mi confermate che è Manu Ma che mi ha Ma che mi ha Ma che mi ha Eh va bene Non ho Una cosa Se non si Non sta fermo Porca puttana Ma che male Io l'avevo individuati tutti e due Ma sono morto Prima di poterlo dire Manu guarda Inutile che inferisci Ti è andato a dicer No Manu l'ho detto Ci ha confuso ai notti Perché ci ha detto Ha ucciso la cichibe Ma non era lei Ma io Manu l'avevo detto Andate nella stanza Uccidetelo Karim Stiamo andando ad ucciderlo Mi ha ucciso prima lui Io lo sapevo Che era Manu Non so se lo pronuncio giusto Bravo Il bowling è fuori a soup Cosa? Il bowling è fuori a soup Ma scusate Chi è che mi è passato a fianco? Karim Io? C'è gente che ci punta fuori Sono malintenzionato Stai attento Oh ma Fanculo Vado nel bagno Che sono un gruppo Ma è finito male Non fare il secondo detecco Oh mio dio Questo qua mi segue con lo sguardo Siamo in otto Ok Cos'è questo? Eh ho comprato una palla Vabbè questa qua Palla ancora Ma ancora ancora va bene Mark guarda che effetto magico Questo fucile qui Provalo Prendilo in mano Dimmi se non tiene No c'è la spalla E c'è la spalla Per quel Ma è vivo ancora Non è morto Palla Che era sparato qua Io ti l'ho portato Se ti giri di scatto Si vede la spalla Gatto con quelle armi lì No a me fa vedere Rai che ho vomitato Come il mio che ha Non lo sai Cos'è esploso Io l'ho provato Stai cando di Sto trovando un'arma De quarta Eh sì Falute Io ho provato una cosa Però lontano dal microfono Però esatto Con cosa? Con il microfono Perché ci hai messo il microfono Nella trachea Quindi è lei? Sì Ti ammazzo La madonna Mi sa che qualcuno è morto No ho sparato io i barili Per evitare casino Stanno sparando però adesso Ho ucciso io Io ci sto provando Io non ci sono mai riuscito A tirare Via via carino Guarda Mamma mia Dai 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 È andata tutta storta Bravissimo Ti ho aiutato Merda Non si dice niente Dov'è andata? Ma dai Ma scusate Trovai la palla Premi confermi che sei tu Quindi uno Va bene Sto trovando un'arma Umana Guarda Ma si Ma che spavento Stanno sparando dietro Stanno sparando Stanno sparando Io sento sparando in maniera impressionevole E' morto qualcuno qui Marco da 7 secondi E' raccordato Non l'ho visto E' andato 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 We've got E' andato Siamo mati E' Merda Che Qualcuno è morto Aiuto? No ci sono anch'io Allora Potrebbe essere gatto l'altro Ti assicuro di no Allora Moro non ha identificato il cadavere Eh lo sono ucciso il traditore Aspettate faccio spodere un barile No mi stai attento qui che ti fanno spodere Ah che paura Si rimpicciolisce sempre Perché non è buono giocare quello là Porca troia Volevi passare da lì sotto Non puoi farlo Perché il tuo corpo Mi sa che la fisica è sempre quella Sei sempre gigante La morale è sempre quella La morale è fisichella La morale è fisichella Fan cagare comunque le armi di sta mappa Ma sono le stelle Ma che cazzo dice Ma questo qua è un pezzo di merda O cosa questi giorni Io trovo sempre L'emme 4 a 1 E il fan Ma gira Ho rotto la cassa Ma gira Guarda in giro E so di tanto Ma che si dita ma gira Questo qui spara delle freccette Senti T'ho rubato il lavoro T'ho rubato Fa un culo a te T'ho rubato il lavoro Sempre quella Tua nonna In padella Ma cosa dici Maledetto E qua è morto qualcuno No sto facendo spodere i baroni Ah aspetta Roberto io andrei via di lì Comunque Perché? Perché lì c'è una trappola E prende fuoco tutto Oh no Una cacca Un tradito E' una cacca Karim non è perché mi avvertito Karim detective a me Farco? Ha un alibi Ho attaccue della porta Ho l'incendio Non c'era nessuno Ti sei castrato deficiente Ti sei castrato Ma io mi sono rotto tutto, ma va a farlo Ma sei un cretino Cretino? Ho messo in sicurità l'aria Che male incredibile E hanno ucciso Stai lontano Luke aspetta Non venire qui Chiamami chiamami Moro Aspetta ti chiamo Mi curo un attimo aspetta Allora che mi chiudono Ma Moro perché sei ferito tu? Marco Perché sei ferito? È detto Moro Sparano Siamo matti? Fermi tutti Non l'ho cagato malissimo Ma dai Mark li uccisi tutti tu Lo so che tu ho girato tutto A parte che ho ucciso gatto Però dovete smettere di farmi cagare Lo sapevo che era male Eh ma Lidda hai fatto la cosa che c'era un'altra volta Te l'hai uccisi tutti davanti a me Non sapevo cosa farei Eh perché speravo che tu sparassi e dassi via Non che dicessi che te la l'ucisi davanti E lo sospetto effettivamente Tu non l'hai visto dalla tua visuale Assimo il spedetto ma sono sospetto Stronzo ma Non sapevo che eri tu Stronzo L'ho tirata veramente perché Tiè Ho tirato Minchia Hai nozzati per morire Ho tirato una minchia nooo Eh? Stai per morire e ti ho tirato una palla da buio Il pulsantino in basso a sinistra è shadow play Semplicemente attivo tutto Ma si vede in live? Ma quindi non possiamo fare l'altro Non so No ma precisco lasciare Ma ma siamo in dieci Lo faccio la z Beh siamo in dieci Per ora Come shadow play nuovo lo vedi comunque? Compro la palla Ah lo vedi comunque Aspetta com'è che si fa a toglierlo? Roby Aspetta che voglio provare assolutamente Non lo fare Non adesso non adesso Perchè? Perchè? Infostazioni Sovrapposizioni E mettieri Anche perché si smette a cazzo di Di registrare Fanculo Sì no infatti più che altro è quello il problema Ah ho preso il run Sono indipendente Adesso sono il detective Bravissimo Sono felice per te amico Ma non per la tua propria visione Prendi questa qui dentro Io non so dove andare Aiuto Ma questo è un deficiente Metto la palla Ti bruci Ma è già morto Guardi quando sparì gli NPC Perchè fanno una capriola lì indietro Voi le clip fatele comunque Poi Però sappiamo noi dove recuperarle Marco si cura Tieni Ho preso danno Troppo dir la roba Speso danno da te Ciao Ciao Quanto salta ai notti Eh lo so Ho sparato a un barile troppo Ero troppo vicino al barile a cui ho sparato Ciao Buongiorno Aspetta Moro fermo Allora Alcuno ha fatto saltare il barile vicino al Io 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 Qui c'è un altro barile però Occhio Aspetta son fermo un attimo Non mi uccidere Ma non sono io Aspetta faccio saltare sto barile Ho fatto esplodere questo barile Mi ha spammato tutto il sangue qui se vedi Quante esplosioni sto sentendo Ho sempre io che faccio esplodere il barile Adesso basta ho finito Ciao Corvo Ciao Marco mi son caccato Non ti preoccupare non sono io tanto Ciao Lisa Sono tornato Sono tornato Ok Cosa succede qui Oroti Oroti aiuto E si vedeva Oroti clippare attraverso il muro Ma che ti uccido la prossima teglia Gatto cosa volevi fare Gatto Gatto è senza armi voleva tirare qualcosa Si Gatto voleva tirare qualcosa Ma non è vero Si 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 Ha rotto il tester del direttore Chi è stato? E' morto Chi è morto? Chi è morto? L'ho ucciso non era gatto Si è matissimo Si è matissimo Si hanno tolto il testo e qui c'era qualcuno Ah è lì dentro è lì dentro E' vero E' andato via merda E' andato dentro a camperare il bastardo Chi è che siamo qua? Premetemi fuori Sorvo Aspetta Mark Hai notte là in fondo quindi è Oroti l'unico che manca Ho l'ucciso Ma Oroti che hai? Ha aperto la porta Ma Oroti che cazzo ha fatto? Cos'è successo? E' andato dentro il coso lì Ti sparo in otto Ti sparo Ti sparo Sono incastrato nella frag Oh di già All'uscita E' non entrare allora C'è da dire che questa mappa è una ciambella A me piace molto però E' molto bella però da pochi spunti per fare qualcosa di particolare Dici tu? Ah 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 Beh usi le trappole Eh ma devi giocartela su quelle cose lì In questa mappa Eh un po' si Però anche lì Sei facilmente sgamabile Porca troia Se sei vicino a una trappola Beh ma deve arrivare anche da distanza Eh ma deve essere bravo a eliminare chi ti guarda Eh ho capito però Vuol dire che non sei bravo a giocare vuol dire Ci sono le trappole quelle per far cadere di sotto la gente Ma Se tu le puoi anche attivare dall'altra parte Ma Ma dai ti sei spostato con un bacio dai notte Ah no E' tutto mio il bacio Eh sparano Dove dove Non lo so Gatto stai scappando Da dove sparano? E porca troia mi è arrivato un messaggio Dalla Roby Ma come? Puttana Siete delle puttane Roby mi ha scritto su tele che ero santo dio Eh si che ti ho scritto su tele Uuuu Però non mi risponderei che sono in live Eh perché sei scappato dalla zona del delitto E' morto uno Stanno morendo tutti io lo so Mamma mia gatto Ma perché? Ma bastava non rispondere E mi sono distratto Karim è nel corridoio ragazzi Eh Immaginavo Ah Ah Ma madonna Ma che cretino Mi ha tolto tutta la vita mio Mi ha tolto tutte le orecchie invece Mi hai consumato Di un pezzo di merda sei Guarda Mi sono sbaventatissimo Non è qua Come hai fatto a polverizzarmi in quel modo No Non è andato No in una delle stanze ragazzi Ma che paura E' che sbavento E' vabbè Mamma c***o Che miseria che spavento E' la cosa Il laser del c***o E' c'è il primo che c***o Mi sono spaventato veramente tantissimo Ma tu mi hai shottato cosa dire? Io mi sono spaventato Cozzi cose Fismastown va bene eh Sì No che è il mio pacchettino Sì Forse è quella sai Tanto è periodo È periodo È periodo Ma come è periodo State gitto è periodo State gitto È periodo È periodo La leggo La leggo La leggo Ha vinto Moro Quattro euro e tredici Molto particolare che dice Prendete vu le gole ad or Grazie mille Va bene Non ho capito come lo faccio Comprerò vu le gole ad or Allora La scelta Moro eh Moro sei uno stroroso Cozzi cose Non so qual'è Ma stai zitto Non è vero Ma si che fa c***are Più che altro è brutta da vedere questa qui Ma tu sei brutta da vedere Anche questa è un'arena eh Anche la mappa la facciamo a c***are comunque No però non va bene Allora giochiamo a go of duty Non ho capito No questa è la vancamata A parte che nessuna mappa di code è così Guardate qui Eh no vabbè ma questa qui è praticamente un massacro Ma non è vero No C'è Non sa giocare dalla colpa alla mappa Ti sparo in faccia Karim Eh dai fai così Quello è il gioco Eh ma io sono innocente Ti sparo in faccia perché così Con me non è vero Ma chi è che mi ha portato Una scoscia Adesso mi sono c***o Karim Sono fermo Le spalle Tirono l'incendiaria gatto gatto Hanno tirato delle banane Io sono morto mi sa In pigiama Hanno tirato delle banane È stata la Giuliana È stata la Giuliana Ma sono detective Non è vero Adesso adesso Non può passare Hanno ucciso davanti a me Eliezer Avanti una No Eliezer No scusami Karim Che spavento Da dove Marco Eh eh non lo so Ma io ero da questa parte Ma l'acqua è normale che sia marrone Chiamami Chiamami Ma io ho preso l'arma adesso Cos'è successo Allora probabilmente in quella casa Ma non c'è il visualizer Secondo me è moro Ah eccolo Karim secondo me è moro Ma no ma Karim m'ha visto Sì Ma io ero con Karim m'ha visto Ma io ero con Karim m'ha visto Ma io ero con Karim m'ha visto Eh devo tornare su ma non riesco Non so neanche cosa cacchio succede lì Io ero con Roberta Eeeh Karim m'ha visto Eh io sono morto Dimmi Riesci ad andare al corpo di Eliezer Eh sto Si iniziato per caso Hanno cercato di beccarmi che ho silenziato Da dove Dove E non lo so E Mark Vedo Mark dall'altra parte della piazza io Mi ha tirato l'incendiario e hanno ucciso lì azzaro davanti a me C'è un silenziato qui Sto seguendo le tracce un attimo Eh Cosa sto facendo io Ragazzi c'è un badine e lo faccio Eeeh Perché ragazzi io sono caduto sotto e devo fare tutto il giro E' esplorso Qualcosa dalle parti di dove era Mark prima Vabbè basso un pedino al game E' morto Karim Ma non è vero non è vero Ma non è che è morto allora E ho sentito Ok scusa mi gatto Ti aspetta che mi sparano eh Sono inseguendo che ho pensato io un attimo Aspetta che c'era di me E' morto Corvo con il silenziato E se mi dici dov'è però io non Non so se si deve scendere Eh chiamami su Moro non Corvo Ah però il silenziato Allora il traditore ha fatto la strada Via tutti via tutti E mette d'occhio il Luke comunque No aspetta Karim Dimmi Vieni qua Dove Aspetta Ehm Cosa c'è qui Not Karim mi vedi? Si Vieni dove sono io Arrivo a paura che mi sparino Aspetta Serve il visualizer Hai notte vai via No qui c'è il cecchino normale No serve il dna Il dna Ce l'ho Eh hanno sparato Hanno sparato Dove dove? Vieni qua Karim Adesso ho sospetti di Luke Vieni con me Karim Mi hanno tirato 7 granate No c'è Luke Prima che era sul cadavere di Liezzar Forse per prendere il punto del traditore Allora qua c'è del sangue di un traditore Moro come hai fatto a confermarmi Ma donna bravissimo Ehm Basta Avrà ucciso la Roby Grazie Grazie Ah grazie va bene dai Vedi chi può essere Comunque la Roby non ha ucciso Liezzar ragazzi Non me lo fa prendere Non te lo fa prendere Perché è il sangue del traditore Perché sopra c'era il cecchino silenziato Quindi è passato di qua Ehm che paura Ehm ha sbattuto mentre cercava di scendere Ragazzi Ehm ha sbattuto Roberta Non ha ucciso Liezzar Eh ma infatti Eh lo sospettavo eh Però Ma non ti ci fa fare proprio niente col sangue No mi No a parte il fatto che forse quel sangue è mio Perché son caduto lì io Ma no 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 C'era il cecchino silenziato lì Eh però magari lui è sceso bene e non si è fatto danno Quello lì sopra al tetto è di Karim prima Sì No 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 Anche la no son caduto due volte io quindi Bravissimo Eh infatti son 75 di vita senza medikit quindi Si ho perduto Minchia Cecchino silenziato ha zero colpi quindi Io ho leggeri sospetti su Luke ma leggeri Eh anch'io perché era Casalmente sono uscito da quella parte lì Karim ma c'era lui No quando prima mi hanno sparato E mi son girato e l'unico nascosto dentro la casa era Luke Però non vuol dire niente quindi Eh io quando ho seguito la pista lì E il primo che è venuto fuori è stato Luke Ho detto anche io Luke l'ho visto sul cadavere di Liezar Magari per prendere il punto del traditone Eh Vedetelo Io non so ne ho qualche dubbio su roti ma non so perché Vabbè Vabbè Come si sott'acqua Come? Ho visto male La puttana E qualcuno è volato via ragazzi Ero io ero io Dove sei? Sono qua Sei vivo come è possibile? Dietro di te Come hai fatto? Salve Ah no rotti è volato via Moro l'avete identificato? Vedo che la mappa si allaghi da sola a fine round Ah Dunque no non vedo Moro Non credo Luke O ci sta deviando No no secondo me ci sta deviando O ci sta deviando tantissimo Luke Perché l'hai detto da rumeno? Anche perché non l'ho mai installato O ci sta deviando Sembra di Pintus che imita Murino O ci sta deviando senza scipola E' morto qualcuno mi sa E' Luke allora No? No aspetta ho sentito un Ah Così Quello che ho letto nel È notte Tu hai finito Tu hai finito Sto bene sto bene Io vorrei trovare il cadavere di Moro che un po' mi spiace Ma mi ha identificato rotto Ah ah I sospetti si stringono Come? E' andata via Roberta? Ma? L'ha detto? Roberta? L'ha detto? Ma l'ha detto? Ma l'ha detto per davvero? Luke per davvero? No è Oroti ragazzi Ha scritto Luke ha scritto Oroti E li stava sparando Ha usato il One Punch E venuto di me Oroti mi ha fatto partire via Però è divertente Io ho sentito la parola tette Mi sono interessato Ha detto divertente E io sono andato giù per la scaletta Nella caverna Ho sentito la parola tette Poi merda era fino in cima Sopra le case Vaffanculo sono riuscito uscire E' stato un corpo di scena Ma allora trovare il sangue non No no ma quello che credo fosse il mio sangue Perché Oroti tu quando sei sceso dalla corda Sei caduto o sei sceso dalla corda? Eh sarà sceso Sono tre traditori Perché io sono sicuro di essere caduto lì Io sono innocente Anche io Però sono tre traditori Guarda che ci sono due lati Uno secondo me No 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 è E' che io ero proprio lì Me lo ricordo perché Poi sono tornato Magno hai lanciato un'incendiaria No è una scena Ah non ha neanche sparato da sopra Ci sono i badili Ti farei esplodere Orati allontanati Sono barili comunque non badili Va bene Farca Dove sono qui Valeria Badili Ma gli M16 li hanno finiti intorno qui? L'ho detto Li hanno sparato col cecchino? Io ho sentito Eh ho sentito dov'è Ma il cecchino non silenziato tra l'altro Da dove? Ho sentito un colpo normale C'era Manu lì sopra C'è lì sopra Eh sì allora è Manu Allora è Manu Allora è Manu Però quel barilo Hanno riesumato il vecchissimo video di Valeria Marini Che appunto hai appena citato tu Dove faceva l'imitazione di Marilyn Monroe E cantava Happy Bird Day Al compleanno di Berlusconi tra l'altro Solo che Era sexy quanto un comodino più o meno Cos'è? Era Manu sì Era sexy quanto un comodino più o meno Era veramente una merda sì Mamma mia Valeria Mandridi E ha fatto la sua epoca comunque Esploso Esploso qualcosa Durante gli anni d'oro era ficcante Roby Guarda in realtà Non lo so Si sembra sembrato un gommone Lo era Ah ecco Allora io ho l'arpione E il cecchino silenziato di Manu comunque Cosa ne faccio amici? Porro Lasciali in alto e lasciali cadere in basso Non posso Poi le tengo io fino a fine partita Dalle a Moro Lasciali in alto E poi farli cadere Parro per l'isola te aspetta Che cosa? Io sto in un angolino e mi faccio saltare in aria Non è vero la tiro la di Che cosa mi vuole dare? Aia! Che colpa mi vuoi appiopare? C'è il piccione! Piccione! Dove? Qui! Oh! Mamma mia Moro Moro vieni qui Comunque Comunque Gatto Se cercavi un M16 è qui Dove? Ha preso fuoco un tavolino Se mi interessa Vieni con me Vieni con me Vieni con me perché mi vuoi uccidere No no Non seguiteci Non seguiteci Non lo prendo Ma ho ucciso il traditore io Vieni Sì sì Chi l'ha detto? La Cicchino che gira con una pistola Secondo me lei nasconde qualcosa Ha lanciato qualcosa da qui Aia! La Cicchino è volata È caduto qualcuno dal comignolo E qualcuno ha lanciato una disco Ma ho l'MP5 che è baggato Moro Mi pieto il dito Moro perché c'hai l'alpione? Faccio quello che voglio Yoga Va bene Vorrei scendere ma non so se riesco No infatti non so se riesco Non so se riesco Chi è che mi ha sparato? Dentro la grotta Correte Faccio l'acqua Euroti 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 Scusate Ho detto che ero roti Ho detto che ero roti Mentre mi sparava ma non pensavo mi sparassero No no ma l'abbiamo visto tutti comunque Aspettate mi devo curare Così 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 E copritemi Io mi devo curare perché te mi hai sparato Che ritrusa Ma che è nascosto lì dietro? Ma io ho sceso il traditore L'ha finito Ma io ti volevo incurare Ormai mi sono incurato da solo Ma dai che fai Beh i traditori hanno fatto un ottimo lavoro per ora Ok Ma Manu perché l'abbia sgamato subito che ha sparato da lì E' un accaso No a caso No a caso Ti sparavi Abbiamo visto tutti quanti che sparavi da lì Manu non è che a caso No no Eh no no L'abbiamo visto T'ho rincorso e t'ho proprio sparato in testa Ma adesso scusami Una grandissima attrice Della nostra epoca Tira una disco ambulatore Che ha fatto I film straordinari La Marini Guarda Ma schifo anche come donna Portadella mi chiamo Basto un ordinario A Bambola A Bambola A Bambola Ho fatto anche paparazzi mi sembra Ma Bambola non era un porno tipo No era un erotico Un erotico Ma neanche tanto erotico Non ho più la mano io amici No era a caso Ma Marini ha fatto roba con Tintobrass non credo No no era un altro regista simile Guarda sono un equilibrista Mi piace che siano morti solo due traditori Eh si ma non Sacrovissimo Roberto Eh te l'ho detto che questa mappa non rende Qualcuno è volato giù Questa è una donata e una rosa La leggo Di sono maga 4 euro che dice Un po' di spicci per voi che mi fate sempre dire P.S. Stich è uno cattivo Stich Coccoloso Carimba Carimba Ti ho tirato una shock Mori Eh ma come si deve fare la voce di Stich? Gatto? Eh? Aglia che è male Come no? Hai spartito la testa fortissimo Potrebbe essere Carimba Che stupido Stupido coglione Cosa c'è moro? Perché mi sono Perché Ma a me Analizza il cadavere Ma ti pare eh? Adesso lo analizza Eh analizza Ma perché mi hai insultato? Ma c'ho l'Uge Come ti uccido con lo Uge? Eh mi uccide Ma va C'è questo coglione Eh aiuto C'è la cazzo C'è la cazzo C'è la cazzo E adesso? E stiamo ucciso con lo Uge ragazzi E Karim E Karim Spara spara E dov'è? Spara Dove vuoi? Ma quindi adesso posso notare? Ma è merda? Non muore a negare Eh vabbè ma quei due stronzi son morti subito Mamma mia siete proprio stronzi eh ve lo dico Tre traditori due morti subito Guardate che è pulitissimo sotto Eh E solo c'è la patina sopra C'è la mucillaggi Ma è un po' di merda Ma è un po' di merda l'acqua Ma è un po' di merda l'acqua Eh attivare i bit per le donazioni Mamma mia Karim Se ti ho visto ultra sospetto E per forza c'è il cadavere Io non ho più Amici io non ho più le mani nel gioco Non so Quelle cose nuove delle donazioni Un po' una cagata eh in realtà Cioè? C'è successo? Con le cose dei bit lì Con la... Ma non usatele per l'amor di Dio No Cosa siamo delle camgirl Anche perché si spendete soldi voi A noi non arriva niente E quindi non serve un cazzo Eeeh E' un barile che vola Porca te Io non ho le mani Non so cosa Non so che arma ho Scusa mi si è spento il monitor tre volte Io non so che arma ho Cosa vuol dire? Il prezzo è la spada Eh ma non la vedo Dei bitcoin Dei bitcoin Eh si perché esce l'audio dal monitor Cosa nuova di donare Di quei bit Non lo faccio Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ma in realtà Credo che non lo facciano neanche apposto Hai fatto robe Eh credo che Siamo Ero fermo immobile Non me l'hai tirato Perché Lo stavo per fare anche io Quando ho donato a Karim Per dire Perché Ora Non fare le finte banane Ti ho visto Che cosa simpatica che era L'ho fatto anche io prima Amoro Siamo fratellini Ma Credo che comunque Una certa cifra Arrivi anche allo strido Molta cifra Oh minchia È morto Però comunque È morto È morto Do sono esplose Scappa Scappa Ah che male Veramente Veramente Vabbè Qualcuno è morto ragazzi Ancora? Eh, ho sentito qualcuno morire, effettivamente. Mi stai dietro, visto che continuavo a dire veramente, veramente. No, no, non l'avevo fatta. Ce ne sono due. Manu, vai via. Manu. Manu, vai via. Corvo? Ok, minchia. Roby, come ti muovi in particolare? Ah, io sento gente che spa, icchia. Muovi il bacino. Muovilo, muovilo. Ma c'è un cadavere lì! Ti è Roberta, davanti a te! Ma tu vedi? E non lì sotto, davanti, un pochino davanti. Era sotto la scaletta davanti a te. Io ho il silenziato di Gatto, eh. Eh, Roberta? Non è vero. Qui, guardami qua sotto. Io sono vivo. Ah, lì è un po' nascosto. Guarda chi ha ucciso Gatto. Chi ha ucciso Gatto? Ah, da sopra è. No, chi ha ucciso Gatto? Che persone Gatto ha ucciso? Va bene. Vado a controllare. Ma mi spieghi come mai mori sempre e subito all'inizio partita? Allora, Gatto ha ucciso Mark. Ah, ok, perfetto. Mi sono afflosciato mentre mi scullettavi in fronte, mica ti sei accorto. Mi hai ucciso camperandotela, stronzo. No, no, io ti ho aspettato che passassi dietro la roccia. Eh, lo so, però, ti avevo visto. E poi ti ho seguito e ho sparato nella schiena fortissimo perché mi sono silenziato in mano. Ragazzi, gli è accattivissima. Cazzo, mi ha girato la telecamera. Ho comasso regato. Eh, esplosso là sotto. C'era una C4 qua sotto. Ma perché mai, Oroti? Chi è che scendeva qua sotto? Che l'ho visto prima, Yook, forse? Conciollo, conciollo. E' shock, non... Ma! Aiuto! Non ho capito. Non l'abbiamo mai detto i bit, proprio. Non l'abbiamo mai detto, bitcoin. Bitcoin? No, ho sbagliato. Forse l'ho detto io, per sbaglio, bitcoin, scusate. Infatti ho detto, non sono bitcoin. Dimmi, sono vivo. Karim, sei vivo? No. Mi sa. Morto Karim? Sì, ma la parte che si tiene in Twitch è elevata, shock. Quello è il problema. Porvo? Sono qui. La fai? Ho l'impressione che qua ci sia un cadavere, ragazzi. Vedo... Friciare cose. Ma, moro, per il silenziato? C'è quello di gatto. C'è quello di gatto, nella pozza? Ma non si vede? No, cioè io ho il silenzio di gatto. Uh, ho trovato un corpo. Ma è carino. Dov'è? Ma dov'è? E' uno! Stanno sparando con un cecchino, ma non capisco da dove. E' il silenzio di gatto. Bastardissimo, no? Il culo. Via. Non farlo, eh? Con quattro di vita. Secondo me... Le banane! Con il mezzo. No! No, no. So che posso contare su di te. Secondo me? Tu mi vuoi uccidere, Roberto? Ma se ho ucciso più! Ma per adesso, una donazione di supporto senza rifi... No, una donazione di 3 euro. Dice, ma questi sono per Martina. Che ogni vlog è costretto a montare la fine... La scelta di Giuliana Morera che va in bar. La scena! La scena! La scena! A parte che non li posso dare a Martina, quindi... Ma che cazzo? Avete donato a loro per Martina? Siete deficienti? Sì, sono coglioni forti, eh! I nostri iscritti. I nostri donatori. Moro, Sikiba è morta. Com'è morta? E non risponde. Quindi... Ma Manu è davanti a me. Gatto è ancora vivo. Ma Gatto gli è stato uccidendo la vita? Ma cazzo, veramente... Cioè, veramente ci avete messo così tanto a capire? Ma sì, che mi sono accorgi anche sparato prima, ma... Eh, ma dillo, perché c'è un sacco di gente che non si era morta. Cioè, notte che stava cercando di capire chi era. Roberta, porca miseria, però. Non so come gestire la situa. Ah, no, no, no! Ma non mi pare! Sparare i gatti nei barili qui! Vado via! Cosa, Roberta, che ho fatto? Eh, hai parlato col gatto. Che il gatto era già morto e l'hanno fatto tornare in vita. Era rosso. Cioè, era... Era già segnato. Come? No, non è vero. Come? Non ho visto interagire te, Roberta? Sì, io l'ho sparato in testa. Ah, ma... È tornato in vita, quindi poteva? Ah, e allora ho visto male. No, non poteva parlare, Roby, perché era... Ah, io per errore stavo per restare te al posto di... Ho visto! Infatti ci ho sperato che ho detto qualcosa che non se ne accorgi. Ahia, che botta! Mi sono accorgato solo in un secondo momento che... Ti sto colpendo, non lo so. Che c'era scritto il nome. A me... E non vedo, Toro. Peccato, peccato. Sarebbe stato bello. Sarebbe stato comico, però... Ahia, ahia. Ti pazzo? Vedo un dito lunghissimo, Corvo. Come un dito? Adesso vi faccio la foto, aspetta. Hai una pistola. Mi tocca a spararti, Roberta. Perché sono traditore. Capo, allora, così non puoi prendermi. Ho sentito sparare in modo mianto aggressivo. A chi sparare? Sei scemo? Sono matti? Sapevo di poter chiamare su di chi. Ma stai zitto? Ma dai, adeptami. Chi l'ha detto? Sto succedendo qua che estrono cose. Fuochi tirotecnichi. Sono caduti dei legni di tecnici. È ancora il fuoco? Ehi. Sto per sparare il barile lì. Quindi sotto nell'aria dei leoni. Ragione uno. Ah, ma siete già due detective. Fatto. Ha caduto. Roberto, no! Ma basta, Roberto. Ma chi è caduto? Ma quello là è un cretino. Non ho preso l'acqua. Posso finirlo? Posso finirlo? Corro, perché puoi darmi una pala in te? Mi sono quasi preso, eh. Devo curare che mi sono spazionato. Posso finirlo? Posso finirlo? Spango. Qua hanno sparato? Mi hanno sparato molto. Eh, mi hanno fatto un po' da dentro, l'ho visto adesso. Wow. È morto! Sono sentito. Sono in cima, sono in cima. Da dove ci chiedono tutti. Dove? Qua sopra. Da dove ci chiedono tutti. Andate a bloccarlo da dietro. Manu, vai dalla... Andate... Io non c'è nessuno. Il primo che vedo nelle grotte gli sparo, eh. No, io poi esplode di tutti. Qui non c'è nessuno. Ma perché io non riesco a salire da ste cassa? Ah, forse è sceso da qua. Come la robi? È morta la cassa. Ah, è morta la roba, ok. Sì. C'è qualcuno che si sta curando tantissimo. Io, 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 io. Uno è Mark. Uno è Mark. È scappato, quindi lo posso dire Mark. Io sparo. Da dove è scappato? È da... Che spavento, Moro. Ma... Moro, va. È morto. È morto? È morto? Ma se... Donazione. Un'altra donazione di supporto. E leggi tu perché sto facendo un traditore. Che ha donato tre euro e dice A parte che stai calmo E comunque si donò loro Solo per mostrare il dispetto di pagare altre Altre per le sue colpe, signorina Giuliani. Ma scrivi bene, coglione! Scrivi bene! Ma che c'è saluta... Ma scrivi bene, se mi chiesto bene. Ed è Moro che non è buono. Porvo, c'è rimasto. Stavo caccando. Ho visto sparare, stavo sparando. Stavo caccando. Quindi? È Oroti l'altro? Sparò Oroti? Eh, non lo so. Moro, ma da là dove si va? Non lo so, mi butto. Faccio lo scherzone. Ma dai, ti sei già buttato. Che paura, Marco. Un logopedista? Eh, ci stavo pensando, poi ho detto Vabbè, no, dai. Ma no. Anche io l'ho visto un attimo sparare un po' così. A parte che gli avrei sparato, ma... Scusa. Anche io l'ho visto un po' sparare così, Corvo, in realtà. Poi... È in verità. In verità vi dico. Ma io voglio prendere questo... Ok. Tra l'altro la vescica piena, dovrei pisciare dopo. Ma magari. Ma quanti siamo divasti? Qui c'è un altro cadale. Ma lì? Ma no, non siamo divasti io e basta? No, io ci sono. Manu, c'è Oroti, c'è Porvo. Certo, sei morto tipo petto. Potrò sparare qui dentro. Ma che paura, Manu. Eh, beh, dai. Eh, quindi... Signor traito... Manu, mi vuoi per caso sparare? No. Ma io ho appena ucciso... Why not? Moro e Manu mi fido. Ok, quindi Liezzaro corvo. Banane. Liezzaro ha ucciso... Ma anch'io tutto... Lo sento? Corvo è corvo. È corvo! Ho sentito un'esplosione incredibile. È dentro la casa di là! Manu! Oh noti, tu vai da giù, io vado da su. È in una posizione di merda. Lo sforbiciamo. Ma non posso sapere. Dov'è? Io te lo dico. Ah! Madonna. Ok. Eh... Ma Liezzaro mi ha impedito. Hai fatto quelle... No, ho visto qualcuno salire e ho provato a seguire. Scusa, però non sto per farti sgamare. Un pelo! Perché... Ma che cazzo... E però mi sono stoppato. Ahia, che male. E però te mi hai ammazzato e poi mi hai identificato. E sì, vado a far finta di niente. Eh, l'ho capita dopo. Questa tattica. La Francesco Tizio Qualunquata. Sì, cos'è? Però c'hanno... C'hanno creduto a sto giro perché non c'ha nessuno. Perché non me l'ho seguito. Io ho un'altra donazione di supporto. Comunque c'è la chat. Cioè, i soldi a me piacciono. Però se vuoi scrivere anche in chat, cioè, puoi. E dice, questi sono per la dislessia di Moro che poi dicono di Esprit. Puoi dare dei soldi anche a me, per favore. No, ma dacci lì tutti perché a te non servono. 1,50 euro comunque non mi basta. Se me puoi dare un po' di più, cortesia. Ma l'ha detto, l'hai chiesti? E comunque 2,50 arriva a 1 euro. Parò a quei barilli, state buoni. Parano di già. Barilli che rotolano. L'ha detto Mark che sparavano. Parò a quello lì così mori Luke. A parte che la dislessia è una malattia seria, supponso. E quindi almeno 560 euro, per favore. Vi sento tutti a cazzo. Voi siete dei cretini. Cosa? Scusa. Perché? Cosa è sulle spalle degli stolti che ci donano, eh? Ha detto stolti veramente? Ha detto stolti, io l'ho sentito. Ha detto stolti. Pagate 500 euro a Moro, vabbè. Madonna. Aggiustatelo. Qualcuno si è riuscito di peroni? Io avrei bisogno di 6 minuti. Ehi, notte che me l'avevo giù. Ho sentito qualcosa di molle. Qualcuno è morto. E la put... Marco? Marco? Si, mi sento che non si aveva silenziato. Ma è stato Marco a spararmi con il silenziato? Si, 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 è già morto, è già morto. Marco, ci sono rimasti a malisti. E' gatto, ammazzate il gatto. E' diventato di nuovo piccolo. Sono caduto pure di su. Ma dai. Ma stai fermo dietro. Ma non è piccolo. Non l'avevo neanche visto che avevi vincito il silenziato. Roberta l'hai vista anche tu? Sì, qualcosa che scoppiava. Ho visto tipo un pezzo di braccio. Ma che schifo. Ma qua ci sono delle banane qua in mezzo. Probabilmente il mio, sai? Perché io sono buggato. Non vedo le braccia. Ah, quindi tu muori e poi le braccia volano via. Perché io non ho le braccia nel mio personale. Ma lui per caso è ferito. Ma queste... Piccione! Dove? E ne ho solo morto ragazzi, è stato bellissimo. E' stato... Aia puttana! Aia. Ho messo. Niente, l'ho lasciato play. Ma affanculo, peccato. Comunque ti stavo per lasciare andare io. Perché non l'avevo visto il cecchino silenziano. È la madonna. No, no, no. Ti stavo lasciando andare. Cioè, oddio, è divinoso. Mi aveva proprio accusato, quindi... Ma io non l'ho accusato. Io ho detto qualcuno uccisore. Cosa sta succedendo? Eh no, hai urlato è gatto e... Non l'ho capito. Non l'ho veramente capito. Io ho smesso di sparare perché ero convinto di averla uccisa. Invece hanno l'accordo di poco uno di vita. E ho finito il munizio. Infatti iniziato dal reticendo qualcun altro dall'alto lo si disparerà perché io non so. Voglio fare il traditore. Forza, su. Però come vedi, questo monro Shadowplay funziona da Dio. Ma infatti in sta mappa sono tutto buggato. Comunque quell'arma di che avevo non era una meraviglia. Sparava popcorn, più o meno. Qua lei ha preso la R. Ma non ti puoi costare. Non è buona quella. Ma perché è votata l'ultimo round? È un pelo, per un pelo, gatto. Sono cagato è vero tappato tra l'altro e questo qui è un coglione. Questo qui tappa. Eh sì, sto cercando di capire. Falla e tale, tale banno. Malle tale tale del gammio. Chi è morto? Hanno sparato l'ho visto. Chi? Cos'è che sei? No smoke. Sotto di me. Stanno sparando i varili. Stanno sparando in maniera eccessiva. Eh ho capito Manu stai fermo un attimo con le dita Ok Moro l'hai visto chi c'è là sotto? Non ho visto E non qua sopra E controlla Potrebbe essere la GKiB ragazzi Perché? Hanno sparato da sotto e io l'ho visto E quindi? E' morto qualcun altro dentro le case qui Ma io non vi ho capito se qualcuno è morto Ma dov'è? Ma ogni volta mi dovete far cagare sotto Una potrebbe essere la GKiB ragazzi E che palle Ma il gatto Vieni qua e sparami allora Va bene A parte che sono dietro di te Oroti è morto Oroti dov'era? Dai dai Ma non lo sai Dai non lo puoi vedere Non l'ho visto per veramente un secondo Secondo me la Roby vi dico L'ho visto proprio cechinare L'ho incontrata là sopra praticamente Raga mi sa che qualcuno mi ha donato veramente Qualcuno? Questa che qualcuno mi ha donato veramente Mi è arrivata una cifra adesso Senza motivo C'è un cadavere un edificato sul tetto Mi sa il moro eh E come lo prendo? E' morto un'altra persona mi sa? E' sul tetto quale? Sempre della Lo vedo da qua E' là sopra Ha sentito un colpo di pompe E' sennò io Con lo sto cercando Vado io Vado io So come arrivare probabilmente Anzi senza il provare il mente Non ho fatto cadere Hai fatto cadere? No il cadavere è via Ah c'è Mark Aspetta c'ho la discambuletta E' la cechibe uccidetela Ok Era vero? Ha lanciato il fucile silenziato Mi sto sparando Mi è andata a mano Mi sono visto lei No 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 Chi sei tu? No è not Ok eh no no c'è chi be no c'è chi be hai noto con quel fucile puoi tenere al primo ah si guarda ah quella che spavento è noto chi era sul tetto poi l'avete visto? no guarda no qualcuno chi sta curando la mano? io noto abbiamo ucciso la roba grazie oh c'è sbaglio un ucciso il c'chino poi ho visto che c'era gente io non vedo la mano e il mio pollice è molto male si purtroppo Luke ho dovuto usare la deagle si porca troia una volta che ha Mazzurro c'ho qualcun altro dietro io mi cago sotto ah no i not però come ci si arriva di là? eh comunque era Moro si l'avevo capito mi ricordavo come ci sei arrivato? devi salire sul sulla ringhiera saltare sul Moro saltare sopra io sto sparando con le mani comunque è incredibile va bene e c'ho il pollice rotto all'indietro devi salire da qua il pollice rotto all'indietro no è il tamburo al massimo comunque dalla ringhiera dove si? che male che ti ha finto? no c'era la pala ti ho slinto c'era la pala questo qui è un cretito e non vedo io non vedo anche come mi sto sai che l'unico che è rimasto fuori dall'azione così è Gezer che aveva preso l'identità di Nuke io non ti credo no no credimi credimi se sono felice credimi se sono felice se sei felice tu lo sai allora hai noto per esclusione che corvo mi abbiamo ucciso insieme io allora chi è che non ha ucciso niente? allora io non ho ucciso nessuno ma non sono io qualcosa non quadra qui il fatto è che Mark allora io ho effettivamente sparato alla Roby e Gezer è arrivato subito dopo non so e allora vuol dire che lui può aver tranquillamente può averlo fatto dopo non si salva così Gezer se l'avessi detto prima in otto faccio esplodere un barile Marco sei morto? Marco? Manu? eh? perché sei imboscato là dietro? eh perché ho poca vita e qualcuno mi può uccidere tipo il traditore aiuto cazzo di acqua prendo faiato torno giù eh? prendo faiato torno giù secondo me uno è mano oppure no ahia dove merda sei? stronzo ma dai ma no dai bravissimo era Gezer ma dai hai notte perché ti sei sparato brava roba io non ho sparato ha sparato dovevi dirlo subito che è arrivato dopo perché ma in realtà gli ho sparato la roba in realtà gli ho sparato ma si ma era chiaro che l'avessi fatto per coprire però abbastanza l'avesse detto infatti io ti stavo già se l'avessi visto ti avessi sparato ma non avevo le mani quindi non vedevo l'arma bene porca troia io ogni volta che ero lì a cecchinare e mi ciccia fuori il look ma porca troia sì ma perché le mappe a cerchio c'è sempre qualcuno ovunque eh sì è normale è quello che dicevo prima anche anche la mappa del bullying cosa ha vinto? lo sport io spero che mi sistemi le braccia perché mi fanno male casa bianca secondo me le ha lasciate nella mappa prima è incastrati lì dove l'avete visto le tue robe è stato inquietante le mani io comunque per sparare a carimi sono nascosta tipo sotto una casa ma non mi vedeva nessuno no io ti ho visto Robin lo ho detto ti ha visto subito non mi ha sparato nessuno ti ha visto tutti Robin niente ti ho visto mentre cadevo e quindi non ho fatto in tempo a leggere il nome però ti ho visto proprio su cecchinare però non aveva le mani quindi amici mercoledì mi arriva anche il processore vedo le mani yeah vedo le mani che magia che maniche è quasi magia Marco Mark ma come te le fai le seghe ma cosa non si chiede alle persone come si fanno le seghe con le mani Robi ma come te le fai le seghe va bene che sembra un nuovo programma di real time dopo ma come ti vesti ma come ti mostriami l'ho colpito ma no io sono indietro ho 62 euro del signor Gabo Ang 4 euro che dice ciao amici oggi è il mio compleanno mi sento quindi in dovere di offrirvi una quarantina di gustosissime caramelle a vostra scelta visto che purtroppo non riusciamo a vedercela grazie di tutto vi voglio un mondo di bene auguri 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 ma hai fai gli anni almeno 6 o 7 volte all'anno scusa ma devo fare gli auguri anche io che invecchiato è molto gentile Gabo ho sentito dei beep bim ma non la vedo c'era gatto che si curava prima io sono innocente ve lo posso cremerare e abbiamo fatto il gioco pericoloso guarda provo che gioco pericoloso non l'avrei mai fatto da da innocente mezza vita ma pure è morto con un colpo stai esplodendo la c4 che a tutti che a tutti ma da dove da dove merda non la troviamo non la troviamo e no la c4 ah che cazzo ma è esploso ancora che dolore dai una volta che avevo ritrovato le mani sto bene eh insomma sono morto eh io porca c4 dai mano Roberta cos'è va bene è una smoke una smoke ti prego mica cretina mi sono spaventato ma che sta morendo la gente sta morendo la gente cod ma ma eh va bene ma che ho fatto tutto io stronzo si hai tirato anche una rafficata carinja che c'eri adesso vabbè già che c'ero a me è scusa una bomba ma ero non ero così quella che è stata con la c4 eh io non ero così mi sentivo ma non non ero così mi sentivo ma non è stata bene lo cazzo è stato un gulo è stato un gulo è stato il territorio in questa mappa qua non in quelle del culo di prima eh ma qua basta iniziare a sparare e muoiono tutti eh eh no ma in realtà i tre incendiaria non so parlare tre in generale così perchè l'hai detto come donazione è morto roti io non ho armi io ho spaccato il computer in testa ragazze quindi cosa venterò a sparare raga io dico anarchismo volevo io vuoi cambiare fucile io dico analgesia facciamo cambio è l'altro quello che spara un colpo singolo però è più potente ma io non le armi amici resuscitano le persone ho già comprato il defibrillatore non posso chi beh ah Robby la smetti di sparare la roba? non la smette eh secondo me è un traditore ah ok morto gente ops è morta lietar si è capitato è morta lietar lietar se ti sei buttato nel posto e non lo sapevo ti sei buttato nel posto scusami non l'ho fatto apposta non l'ho fatto apposta moro non l'ho fatto apposta scusami bastardo ho metto una c4 qui si claymaiieee biaaaa hai not che hai fatto che ho visto comunque lui l'ha schivata e io lo dico hai not ho paura no è la, Marco è Marco è terra delle rose Una donazione, sparano? Fan culo, fan culo, fan culo! Ti ho cambiato fucile apposta, ti ho dato quello fallato, ti ho dato... Comunque, una donazione di More Nyx Triste, un euro e cinquanta, domandina per Natale. Su Twitter, mi potete dire di quale anime vorreste delle action figure? Cercherò di trovarle viva pezzali. Ho visto una scena incredibile, ho visto... Bellissimo sta! Grazie comunque per la donazione, vi diremo per Natale allora, riferiremo. Grazie. Ne voglio una di max pezzali, ho fatto un casino incredibile in quel corridoio, io comunque. Io posso avere... Ha visto niente questo signore qui? Posso avere l'action figure di zucchero? Lo voglio. Questo qui che sto tirando su, ha visto niente? No. Sei tu, eh? No, no, è lì dietro! E' spedito! Ma dai! Ma dai! Ma la pallotto l'ha spuntato! Oh! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Con uno di vita! Con uno di vita! 18 di vita! Ho tirato su. Chi è? E ai notti mi hai solo incontrato, fatto tutto e bad star! Scusa Marco! E Marco, e Marco si è girato e voleva spararmi! L'ho ucciso! Ma non mi ha ucciso con la crowbar dopo un... ...incredibile... Ma dai! Marco ha ucciso il gatto così sparando dalle mie spalle e mi ha fottuto praticamente! Io ho sentito qualcuno morire, poverino! Oddio! In realtà sì, è colpa mia! E' colpa mia! Io sistemo i documenti allora, eh, facciamo così! Dobbiamo ucciderci? Cosa succede? Karim! Che sta vero! Se canto fermo! Uccido tra tre... Fk! 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 Beh, perchè sono anche un attività! Mi regalano un attività, per favore! Eh, cosa vuoi che ti dia, aspetta! Io non c'ho niente! Tieni, ho un incendiario! No, sono traditore! Mamma mia! Via tutti! Aspetta, Karim, Karim! Sì! Guarda! Guarda! Ma! Ma! Gatto! Caspita, mi sono... Ma porca troia, era vera! Ma è morto! Ma è morto! Ma è morto! Ma l'ha ucciso l'Eazar con l'incendiaria! Sparate agli Eazar, sparate! Aspetta, prima vediamo chi sei... No, no, sono il Detect, io sono! Vediamo il pene, vediamo! Chi è che... Guarda che questo pezzo di mappa... Stammi lontano, per favore! Quindi spariamo agli Eazar? Ma aspetta! No, non era lui! Nascondiamo le bombe! E' morto! E' morto con la scaracca, eh! Non è morto! E' esploso qualcosa di dietro di te, Moro! Ragazzi, è morto per uno scaracca! Ma com'è morto con lo scaracca? Io l'ho lanciato l'incendiaria! E' morto con lo scaracca! Com'è morto con lo scaracca? Ma l'ho ucciso io! Ma l'ho ucciso io! Ma l'Eazar con 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 l'Eazar! Qualcuno di voi! E sotto c'ero io e l'Eazar! Qua c'è Corvo! Corvo non ha fiatato! Io avevo lo shotgun! Ah! Io l'Aug! Se volete dico anch'io qualcosa in mezzo alle 16 voci e banane! Ma che è ormai! Cazzo! Che volo fatto! Ti ho detto che ce l'avevo l'arma ma non era lo scaracca! Era un piccione! No! Lo scaracca non era! Ma ti dico di noi! Cos'era sto bip? Che dolore! Ho fatto un bip fortissimo! Cos'era? Credo fosse... C43! Vabbè! 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 C'era lo scaracca qua per te e tu sei senza vita! Corpo! Hai notte! Cosa hai fatto? Devo per chiamare dettive! Madonna! E' morto qualcuno! Sta morendo gente! Va bene! Mi suicido! Ma porca puttana! Porca cazzo! Porca troia! Eh... Aspetta! Potrebbe essere Karim! Eh! Mi sto curando! Aspetta! Non è un bug! Era mi ha arrestato! Per quello che... Deve essere Karim! E state attenti! Abbiamo messo le manette! Bravaci Kib! Sono da solo qui tradito! Luke! Luke! Karim! E porca troia! Io non so chi è in vita però! Ciao! 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 E' stato sofferto! Guardi! Non sapevo che era radeco! Prima... In mezzo all'adrenalina ho sparato sia a Luke che a Mark... Così... Devo dire... Perchè ero preso bene ho detto ho visto un sacco di gente e ho iniziato a sparare Amici c'è il momento Chiudiamo qua Grazie per le seguizioni delle donazioni copiose stasera E noi ci si vede domani sera E la comanda è sparata al canale Magari li fa cagare non vogliono iscriversi Invece si iscrivono Però se volete c'è il canale Il cianale A domani Ciao a domani